Pronta la campagna per la raccolta e le firme da parte dell'Associazione, noi tutti liberi e partecipi del Presidente Luciano Ceriello per la creazione di aree di sgambamento in spazi verdi comunali a Battipaglia. Inoltre sarà avviata la campagna di sensibilizzazione alla microcippatura degli animali domestici in collaborazione con l'ASL che verrà svolta con i volontari dell'Associazione con postazioni itineranti che verranno comunicate via social. Il tutto in collaborazione con i veterinari Crutele, Tardugno e Santimone. L'associazione ringrazia anche Tom Staback, Beautiful Air, patronato Sias e Dico la Piazza Madonnina. Abbiamo intervistato la dottoressa Patrizia Larotonda. Siamo partiti senz'altro da un dato che abbiamo rilevato tramite il sito della Regione Campania supportati dal servizio ASL veterinario di Battipaglia dell'esistenza sul nostro territorio comunale di circa 3547 cani registrati. E' questo però un dato approssimativo perché si stima che circa un migliaio di cani non siano microcippati. Abbiamo potuto riscontrare negli ultimi periodi un clima di tensione tra i proprietari di cani e chi ovviamente non possiede il cane. Per cui abbiamo pensato utile poter fare tale richiesta presso il Palazzo di Città per consentire una condivisione degli spazi pubblici verdi che dedichi appunto delle aree esclusive sia ai titolari o meglio proprietari di cani e chi magari non ha piacere o timore di condividere tali spazi con i nostri amici a quattro zampe. Ovviamente sono spazi che andranno curati e che andranno tenuti ripuditi da parte di tutti i proprietari che soffriranno. Per quanto riguarda appunto questa richiesta che noi abbiamo formulato presso il Comune di Battipaglia vogliamo dire anche che questa sarà soffragata o comunque accompagnata da una petizione che abbiamo indetto. Vale a dire facciamo un appello a tutti coloro i quali non solo siano proprietari di un cane ma anche i coloro i quali non hanno comunque piacere a condividere questi spazi pubblici con i nostri cani a firmare questa petizione in modo tale da poter appunto andare a rinforzare questa richiesta che riteniamo comunque essere ovviamente anche un gesto di civiltà oltre che di amore nei confronti dei nostri animali. Saremo impegnati nei prossimi giorni nello stilare un protocollo d'intesa con l'ASL veterinaria di Battipaglia, essere da propulsori in merito a quelle che sono delle campagne di sterilizzazione pubblica, gratuita. A tal proposito ci è stato anche chiesto di far presente che la microcippatura è gratuita già da tempo presso gli uffici ASL, siti presso l'ospedale di Battipaglia stesso. Per cui facciamo un appello senz'altro affinché i proprietari dei cani non microcippati, come dire, badano a siglare questo rapporto di amore che hanno nei confronti dei loro animali per ricambiare non fosse altro l'affetto che dai primordi dell'uomo il cane mostra nei nostri confronti.